Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny in questa nuovissima review recensione dedicata all'ultima ribellione, il lanciarazzi del set delle prigioni. Arma a parer mio tra le peggiori che ci siano in Destiny e adesso vi spiegherò anche il perché. Partiamo dalle statistiche. L'ultima ribellione vantrà una cadenza piuttosto bassa ma che non è un parametro così tanto rilevante in un lanciarazzi, area di impatto davvero buona, almeno questo glielo concedo praticamente al massimo, una velocità mediocre, stabilità nella media dei tempi di ricarica abbastanza buoni di caricatori di due colpi, molto semplici. I perk, come tutte le armi della prigione, perk principale, perk solo sui caduti e due sottopotenziamenti. Il perk di quest'arma sarà cartuccia clown. Ricaricare quest'arma darà una probabilità, darà una possibilità che i caricatori invece di due colpi ne abbiano tre, quindi vi offiderete al caso per avere più colpi del normale. Quando raccoglierete munizioni pesanti, come al solito, esattamente come i lanciarazzi con tre piedi, raccoglierete quattro missili. Ovviamente se avrete il bonus negli stivali un qualche altro pezzo d'armatura che aumenta le munizioni pesanti, giusto per precisare. Anche con questo ne avrete quattro, però con cartuccia clown, ricaricando ogni missile che sparate potrete arrivare fino a un massimo di sei e di per sé lo si può sfruttare, non porta svantaggi, potrebbe portare soltanto a caso vantaggi. Personalmente però continuo a preferire i caricatori di tre colpi, preferiscono non dovermi affidare al dover ricaricare ma semplicemente avere già tre colpi lì a portata di mano. L'altro perk appunto, come dicevo, è uno dei sei casuali che avranno effetto soltanto sui caduti, nel mio caso brucia vandali, danni moderati aggiuntivi ai nemici appunto vandali. Passando ai due sottopotenziamenti, nel primo consiglio di utilizzare il lancio duro che semplicemente aumenterà leggermente la velocità e l'impatto. Avrebbe senso utilizzare anche il lancio aggressivo che aumenterà al massimo l'area di impatto a discapito di un po' della stabilità, ma francamente ok la stabilità non me ne frega niente ma aumentare così poco l'impatto mentre potrei aumentare un pochino quella velocità che è abbastanza mediocre, preferisco decisamente il lancio duro. Nel secondo ramo invece potremo scegliere tra giavellotto, che aumenterà la velocità della testata, caricatore frangiato che velocizzerà i tempi di ricarica di quest'arma e leggerezza che offrirà più due all'agilità. Scelta scontata, giavellotto. La velocità è indispensabile subito dopo l'area d'impatto, l'area d'impatto al massimo si punta sulla velocità, velocità è bassa se cerca di alzarlo un pochino. In conclusione, l'ultima ribellione di per sé è un pessimo nel cialazzi, per il semplice motivo che ok è una buona area d'impatto ma tutte le altre statistiche anche maxate al massimo sono basse, i perk sono nulli e il fatto che ci sia un perk che abbia effetto solo sui caduti toglie la possibilità di avere un'abilità molto più utile come poteva essere ad esempio ferri di cavallo perché che ormai nel pvp è quasi indispensabile, mentre nel pvp di certo non si utilizza un'arma del genere ma si utilizzano lanciarazzi un pochino più potenti o anche semplicemente un verità che senza affidarsi alla sorte dà più missili. Quindi ragazzi per quanto riguarda l'ultima ribellione è tutto, come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto, io vi saluto e noi ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti!